ciao a tutti siamo ricky e teo and this is come potete vedere siamo ancora vestiti così a parte che li farei uscire tutti insieme stiamo girando i video di anita del suo nuovo album e niente se volete seguirci su instagram teo jones e bored richard e la nostra pagina si chiama ricky e teo adesso gireremo la reazione la reazione di anita with ludmila and snoop dog e fit papatino ah quindi sono in quattro in questo video uno due tre e quattro e iniziamo subito ragazzi vai ludmila ma adoro ma che cavolo cioè adoro tutti sti video come quella è lei rosa rosa si dovrei essere dovrei svegliare anita sembra tipo una presentazione come se loro fossero quasi dei robot tipo ora parte sicuro si adoro no 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 e no adoro ragazzi non sapete cosa vi state perdendo ho due trovi la amo ma basta ludmila coppica pezzoli sembra video voce intendiamo super E' bellissimo questo pezzo con Sluf Roto E' sembrava che non si sentiva da non so quanto Questa è la mia preferita No la mia no Per ora la metto terza Prima metto banana, tensione, poi quel no Adoro, adoro Bellissima qua Anche Ludmilla Si ma Anita, Anita Sembra un po' Kim Kardashian Un po' quelle Quei tratti Un po' Giulio, poco Tranquillo Devo venirli Ma cos'è Batman? L'ho pensato anch'io Ma Ludmilla che non... Ludmilla è... Ludmilla io me la ricordo ma non mi ricordo la canzone Allora finito Bella, bella, bella Però io gli do un otto e mezzo Io nove e mezzo Per me è la preferita per ora E' un altro tipo Però questa di canzone è proprio la mia preferita penso Comunque se il video vi è piaciuto lasciate like Iscrivetevi al canale Seguiteci su Instagram Theo Yonse Bored Richard Ci vediamo con dei prossimi video di Anita Che li faremo tutti Ciao a tutti Ciao